Il Parco Nazionale di Burabay prende il nome dal lago e dalla vicina città. La natura selvaggia, in un mosaico di colline, steppe, foreste e laghi, si estende per 835 km2. Il Parco Nazionale di Burabay è meta prediletta per gli abitanti di Astana, che qui trascorrono weekend e brevi vacanze e si possono veramente fare tante cose. Il modo migliore per godersi questa natura selvaggia è l'equitazione. Yerzan Yalosov porta i turisti a cavallo con il suo piccolo figlio Alan e ci dice che tutti possono andare a cavallo dopo una breve spiegazione di una decina di minuti. I turisti apprezzano l'aria fresca ed essere in contatto con una straordinaria bellezza, lago, montagna, la natura a cavallo. Nel Parco di Burabay ci sono 757 specie di alberi e grazie a questa diversità la fauna è davvero abbondante. Nel Parco di Burabay. Grazie a tutti.